Buonasera, buonasera a tutti voi, gentili colleghi e amici, grazie di essere venuti a questa prima riunione dell'Accademia delle Scienze di Bologna. L'argomento non è casuale, l'avete capito benissimo, ci troviamo in prossimità dell'Epifania e il professor Antonio Panaino, che è ordinario di storia, filologia e religioni dell'Iran, ci parlerà non solo dei re magi, ma come avete visto dal titolo i rapporti che questa straordinaria storia che viene narrata dal Vangelo di Matteo ha con tutta la storia dell'Iran, della Persia, Ciro il Grande e così via. Non mi addentro oltre perché io stesso, come penso gran parte di voi, sono molto curioso di sentire quello che ci dirà. Doveva intervenire anche il Cardinale Arcivescovo, che si scuse di non poter partecipare perché è in ritiro spirituale con il clero bolognese, però aveva manifestato un grande interesse a questo incontro che spazierà non soltanto dalla religione cristiana ma anche negli altri saperi antichi. Dopo la conferenza del professor Panaino ci sarà un breve intermezzo musicale, dopodiché apriamo anche la discussione, se ci sono domande, curiosità da soddisfare, che penso che non mancheranno. E alla fine, visto il periodo dell'anno in cui ci troviamo, all'inizio di questo duemila e ventitré, che auspichiamo sia quantomeno sereno, quantomeno tranquillo, faremo un brindisi augurale. Per cui grazie a tutti di essere intervenuti di nuovo e buon ascolto. Prego Antonio. Carissime colleghe, carissimi colleghi, signore e signori, gentile studentesse e studenti che questa sera avrete così cortesemente gradito la relazione che cercherò di proporvi, che certamente tratterà di argomenti spirituali e religiosi senza essere ovviamente un sermone, non avendo io le qualifiche perciò, salvo che uno può dire ma come mai uno studioso di Iran, di filologia iranica, di zoroastrismo, si occupa da così tanti anni del ciclo dei magi e soprattutto dei magi evangelici. Lo vedrete presto perché il tema dei magi nella letteratura, ah perfetto, sì così si può assistere meglio, il il ciclo dei magi nelle letterature cristiane, sia quella ufficiale, il Vangelo di Matteo, sia in quella apocrifa, ha uno stretto rapporto con la propaganda cristiana nei territori orientali, in Iran in modo particolare e quindi implica il dialogo e la mutua ricezione culturale con le civiltà vicine. Nessuna religione che nasce nasce senza tener conto della realtà circostante e senza poi inserirsi nel contesto storico. Però veniamo al Vangelo al Vangelo di Matteo anche perché forse mi devo spostare Grazie. Grazie a tutti. Ho capito sì sì bene ecco dicevo che eh normalmente noi abbiamo in mente il presepe con un ciclo di narrazioni che sono tutte tratte dagli apocrifi. Vedremo infatti che nel Vangelo di Matteo che è la pericope che è dedicata ai magi ed è l'unica in tutta la letteratura diciamo così ortodossa eh canonica delle delle chiese cristiane tutto quello che si racconta intorno al presepe non c'è ma nato Gesù a Betlemme in Giudea nei giorni del re Erode ecco giunsero dei magi magoi nel testo greco dall'Oriente a Gerusalemme e si dissero dov'è il neonato re dei giudei noi infatti abbiamo visto la sua stella a levare viene tradotto in oriente ma in oriente una traduzione più puntuale nel suo levare è un po' più è un po' più precisa ovviamente il levare delle stelle è a oriente però non è esattamente la stessa cosa o bene bisogna sapere che c'è questa dialettica terminologica e siamo venuti ad adorarlo quando il re Erode ebbe udito questo si conturbò e tutta Gerusalemme con lui e radunati tutti i gran sacerdoti e gli iscrivi del popolo si informava da loro su dove dovesse nascere il Messia Cristos l'unto tecnicamente ed essi gli dissero a Betlemme in Giudea poiché così sta scritto per mezzo del profeta e tu Betlemme terra di Giuda non sei affatto la più piccola tra le sedi principesche di Giuda da te infatti sorgerà un principe che pascerà il mio popolo Israele allora Erode fece chiamare a sé segretamente i magi e accuratamente ricercò da loro il tempo in cui la stella era apparsa e inviandoli a Betlemme disse andate e ricercate attentamente del bambino se però lo trovate fatemelo sapere affinché anch'io venga ad adorarlo ed essi udito il re partirono ed ecco la stella che essi avevano visto al suo levare li precedeva finché giunse e si fermò sul luogo dove era il bambino quando videro la stella provarono oltremodo una grande gioia entrati in casa non c'è nessuna capanna o ikea provarono oltremodo una grande gioia scusate entrati in casa videro il bambino con Maria sua madre e cadendo prostratisi lo adorarono e aperti i loro scrigni gli offrirono doni oro incenso e mirra e dopo aver ricevuto in sogno avviso di non tornare da erode se ne tornarono a loro parese per una via diversa questo è quel che dice il vangelo di Matteo tutto il resto fa parte di una letteratura sacrale spirituale ma certamente non ufficiale non ortodossa che ovviamente la pietasse religiosa la devozione ha creato all'interno di diverse comunità cristiane che ovviamente hanno accresciuto e elaborato ulteriormente una serie di narrazioni concernenti Gesù tenete conto ad esempio che già nei vangeli ortodossi canonici in luca immagini non ci sono ci sono i pastori e questo è interessante a significare che da una parte i pastori che non hanno strumenti intellettuali particolarmente raffinati vengono chiamati dall'angelo che li conduce mentre invece i magi che vengono presentati come dei sapienti perché scrutano le stelle ovviamente grazie a loro cercare trovano quel che aspettavano ovviamente vedete che il numero dei magi non è specificato magoi è un plurale nella lingua del nuovo testamento potrebbe essere da due a un numero infinito noi sappiamo dalle fonti iconografiche e non solo che spesso compaiono due tre quattro otto o nelle fonti orientali siriache armene e etiopiche addirittura dodici magi tre per un'ovvia ragione lo si è vinto dal numero dei doni ma non è detto come non ci sono i loro nomi dedicheremo un paio di minuti alla questione dei nomi sulla quale però ho scritto un volumetto che si intitola proprio i nomi dei magi evangelici per cercare di dissodare la infinita materia che c'è intorno alle denominazioni dei dei magi avete visto non sono re re è erode ma non immagino immagino diventano perché giocando un ruolo nella legittimazione del cristos come sovrano universale diventano a loro volta dei sovrani che rappresentano le varie contrade del mondo e soprattutto nel mondo cattolico germanico la figura dei magi assume ruolo politico teologico pensate alla cappella dei magi a colonia presso la quale i re germanici dovevano andare per ricevere l'ultimo passaggio di una investitura di una consacrazione i magi essendo coloro che avevano portato i doni al cristos allunto a loro volta garantivano una unzione a tutti i sovrani cristiani che si fossero fatti ungere in loro presenza quindi c'è una inevitabile politicizzazione se volete del ruolo dei magi ma i magi giocano anche un altro ruolo quello del viaggiatore del mercante spesso sono i protettori ad esempio in sicilia delle corporazioni che vendevano la frutta secca perché veniva dall'oriente e quindi come viaggiatori dell'oriente erano considerati patroni se vi capita di andare a palermo scoprirete che esiste una cappella dei magi con tanto di un spazio dedicato all'astrologia dentro la chiesa che fa parte di un culto particolare che mostra la complessità anche della cultura cristiana e cattolica e comunque delle varietà delle degli approcci delle comunità cristiane al ruolo dei magi che sono sempre un punto di aggancio perché perché i magi rappresentano le cosiddette ulteriores gentes sono quelli che vengono da fuori del mondo ebraico non sono quelli per cui era scontata la presenza del messia quindi rappresentano l'universalismo del cristianesimo e ovviamente proprio per questa ragione la propaganda religiosa l'evangelizzazione cristiana cerca di trovare nei magi un punto di ancora nella cultura degli altri ad esempio la versione latina del vangelo quando deve presentare ai celti i magi li chiama druides quindi voi dovete immaginarvi una sorta di panoramics col falcetto eh che si si reca con altri suoi compagni a rendere omaggio ma d'altra parte ehm eh più ancora più entusiasmante è la ricerca dei nomi dei magi presso le comunità degli indiani d'America quando i primi evangelizzatori cristiani ad esempio in Canada furono chiamati a cercare dei nomi corrispondenti presso i navajo i rapajo eh i rochesi che come medicine man dovevano corrispondere al concetto positivo di questi viaggiatori che per primi avevano capito l'importanza della nascita del salvatore del mondo quindi capite il ruolo strategico perché è la figura del mago nella letteratura eh evangelica quella di un mediatore culturale e ovviamente di fronte perché così come lui è venuto a riconoscere il salvatore coloro che porteranno il suo messaggio devono utilizzare quegli stessi magi come punto di inserimento nella cultura altra quindi vedrete che accadranno delle cose eh straordinarie ma chi sono i magi? Allora intanto disambiguiamo il termine noi diciamo magi per un tabù linguistico perché potremmo dire maghi tranquillamente il latino magus plurale arcaico maghi ma noi lo diciamo lo pronunciamo magi perché ci stona l'idea che dei maghi potessero essere presenti al mistero della natività in realtà il termine magia che voi già riconoscete in greco magheia da cui il latino magia e il latino magus ovviamente il femminile maga in greco magos non è nient'altro che la traduzione di un termine antico persiano che è magu ora l'etimologia di magu è molto dibattuta ma è comunque a che fare con una potenza esoterica con una potenza rituale liturgica è un tecnico del sacro e Platone nell'alcibia de primo non ingaggio con i colleghi grecisti un dibattito se l'alcibia de primo sia opera effettivamente platonica o di un suo allievo ma comunque Platone o la sua scuola dice che il mago più eh dotto educa il principe persiano nella magheia di Zoroastro e poi dice però che la magheia non è la stregoneria termine per il quale nell'antico persiano e nelle lingue iraniche c'è un altro termine che già dughì che è la la stregoneria ma è la teon terapeia cioè la cura degli dèi quindi il magos è un legittimo sacerdote ovviamente di una religione altra il problema è che essendo questa religione altra la religione storicamente propria dei nemici del mondo ellenico almeno durante il periodo è chiaro che il termine magos prosegue per due linee contemporanee ma diverse una per gli autori informati è il legittimo eh esperto di una religione diversa che però essendo religione dei nemici è anche insomma uno che ha può essere pericoloso poi assume anche un significato negativo cioè quello di stregone astrologo interprete dei sogni cioè come un caldeo quindi un babilonese esperto di arti astrali dobbiamo quindi sempre tener conto di questa dicotomia di questo dualismo ma quando i magoi mettono effettivamente piede nella tradizione ebraica e cristiana in modo più ufficiale beh nel libro dei di Daniele quando Daniele viene catturato e insieme a tutti i prigionieri viene portato alla corte di Nabucodonosor evento storico quello della deportazione degli ebrei in Mesopotamia viene siccome era un un intellettuale non viene messo a zappare viene inglobato in una elite in un'elite di sapienti di interpreti di sogni o nei romani quindi e Nabucodonosor e sappiamo a un certo punto fa un sogno spaventoso e lo rimuove vuole che i suoi specialisti di o nei romanzia gli ricordino il sogno e glielo interpretino cosa che come dire anche una squadra di psichiatri psicanalisti tra i più bravi e di scuole diverse insomma forse in un pomeriggio farebbero fatica a perché qui si tratta di recuperare una rimozione ricostruire interpretarla insomma un lavoro che richiede vari anni di psicoterapia e quindi siccome i poveracci non sono in grado di rispondere li vuole fare ammazzare che sono questi poveretti che rischiano la testa sono chiamati ashaf ashafim al plurale termine che deriva dall'accadico ashipu che vuol dire diagnosta esorcista quindi un termine ampiamente attestato per una professione diffusa di tecnici di specialisti e attenzione daniele è uno di loro cioè viene inglobato in questo collegio di specialisti il problema è che nella versione greca dei settanta nella traduzione questi specialisti vengono chiamati al singolare magos al plurale magoli quindi attenzione abbiamo una confraternita di tecnici esoteristi chiaramente tra i quali però c'è daniele e daniele quindi è un magos a sua volta ulteriore fatto interessante daniele quando viene inglobato in quel club viene chiamato baltasa gli viene dato un nome esoterico un nome professionale non è più chiamato col suo nome ebraico e guarda caso poi uno dei magi delle tradizioni apocrife si chiamerà proprio baltasare quindi il legame nella tradizione giudaico cristiana è chiaro cioè uno degli elementi di contatto che è stato utilizzato è proprio frutto di una speculazione sul ruolo del magos come interprete benedetto da dio perché chiaramente daniele può interpretare spiegare il sogno del sovrano non grazie ad arcani segreti e misteri stregoneschi ma perché viene illuminato dal signore quindi troviamo uno dei primi il primo nome della tradizione baltasare il secondo melchiorre viene dalla radice melec che è quella che indica la regalità qualcuno di voi forse ricorderà menelic che era il nome del negus e quindi che però voleva dire sovrano e la radice questa radice è quella che appunto trovate nel nome melchiorre indica quindi uno dei magi come sovrano quindi si afferma l'idea della sovranità il terzo guarda caso si chiama gaspare da gataspar che a sua volta viene da gondofare e da vindafarna che è un nome che troviamo nella vesta che vuol dire colui che possiede la luce di gloria ma perché hanno scelto questo nome allora gondofare è una dinastia di gondofaridi è quella che noi troviamo nel primo secolo dopo cristo nell'india del nord sono dei sovrani indoparti queste sono le monete più le più importanti della loro produzione della loro ma gondofares è attenzione è il re dell'india che per primo si converte al cristianesimo nella tradizione apocrifa degli atti dell'apostolo tommaso allora abbiamo l'origine del terzo nome dei magi perché è stato scelto il nome di gaspare perché guarda caso il mago più orientale quello che sarebbe venuto dall'india porta proprio il nome dello stesso sovrano che nella letteratura apocrifa come sovrano dell'india si è convertito ora noi i sovrani gondofaridi li conosciamo conosciamo eh approssimativamente soprattutto le loro serie monetali e sappiamo che hanno giocato un certo ruolo quindi nella letteratura apocrifa che però nulla a che vedere direttamente con il vangelo di Matteo si sviluppa una eh ulteriore ampiamento un arricchimento che tende però vedete a diventare sempre più espansivo e a inglobare culture altre e ad aprire al tema della regalità tema della regalità però che noi ritroviamo soprattutto nel contesto nel contesto iranico di frontiera perché attenzione per i primi secoli il cristianesimo se la passa male sotto i romani cioè noi dobbiamo uscire dagli schemi amico nemico di oggi dobbiamo cercare di ragionare con quelli dei primi secoli del cristianesimo allora quando i cristiani si muovono dell'impero romano hanno un sacco di problemi gli ebrei ancora di più quindi evocare nel vangelo di Matteo i magi che guarda caso sono i sacerdoti dei parti e dei persiani cioè del nemico più importante di Roma gli unici che potevano cacciare da Israele i romani era un po' come far vedere una lattina di coca cola ai talebani durante la campagna contro gli americani è chiaro che poi la stessa coca cola pochi anni dopo diventa il simbolo dell'oppressione americana contro i fondamentalisti ma attenzione i simboli e le ideologie politiche cambiano di semantica a seconda dei contesti geopolitici non sono fissi però noi dobbiamo ragionare rispetto a quel che accade nel primo secolo quindi noi nel settanta dopo cristo ad esempio abbiamo i romani che con Tito radono al suolo il tempio di Gerusalemme e nello stesso anno il sovrano dei parti tiridate da autonomia giuridico e amministrativa la comunità ebraica e nomina il resh galutà cioè il l'exiliarca il capo della comunità in esilio per cui tutte le norme giuridiche più importanti degli ebrei in contesto iranico erano autoamministrate ora è chiaro che menzionare in un contesto già come quello dei vangeli i magi significa menzionare i sacerdoti di un popolo amico i magi ovviamente sono i sacerdoti di quella cultura quindi sono visti con un occhio di interesse gli ebrei non dimenticate conoscono bene la cultura religiosa iranica perché vivono in iran dal sesto secolo avanti cristo quando sono stati deportati dai batilonesi sciro il grande di cui parleremo presto libera gli ebrei una parte di loro ritorna e li aiuta come faranno i sovrani successivi a ricostruire il tempio di gerusalemme ma una parte rimane in iran e questa comunità svolgerà un'importanza enorme pensate che uno dei due talmud il cosiddetto talmud babilonese viene redatto in contesto iranico cioè sotto i sovrani sassanidi cioè sotto la dinastia che tra il terzo il settimo secolo dopo cristo regna e la comunità ebraica di babilonia viaggiava avanti e indietro frequentando i confratelli per la visita a ciò che restava del tempio di gerusalemme quindi attenzione c'è una circolazione non abbiamo a che fare con il muro di berlino che comunque non è mai stato impenetrabile ma in questo caso abbiamo un contesto di multiculturalità e di trasmissione ma non solo gli ebrei sapevano che i persiani attendevano dalla letteratura in avestico cioè letteratura del sesto secolo avanti cristo se non più antica i figli postumi di zoroastro l'ultimo dei quali il saoshant cioè il il colui che farà gonfiare il mondo ma che lo rinnoverà e che farà resuscitare tutti i morti prima della battaglia finale con le forze delle tecniche cioè nello zoroastrismo voi avete una dottrina che parla di una nascita virginale nasceranno questi tre giovanotti uno dopo l'altro a distanza di un millennio ma soprattutto da una vergine ovviamente il terzo che nasce da una vergine il saoshant per eccellenza sarà colui che fa risuscitare tutti i didi e morti e inizia la battaglia finale contro le forze delle tecniche ora non è curioso che i primi cristiani ma anche tutti coloro che poi hanno voluto irradiare e disseminare il cristianesimo abbiano guardato con attenzione a una comunità religiosa che attendeva da una vergine il salvatore venturo fa parte di un dialogo e da di una autopromozione perché io per diffondere la mia fede devo trovare il modo di agganciarmi a qualche cosa che rende traducibile le mie categorie spirituali ed escatologiche a un altro che si è mosso che è stato educato secondo linee culturali e quindi è chiaro che la figura del saoshant sarà importantissima vedremo poi che addirittura in ambiente mediterraneo crescono le speculazioni sulla figura di dio quadriforme cioè un dio che è sovrano del tempo del tempo passato del tempo presente del tempo futuro e che poi si presenta come cosmocrator e questa figura è quella scusate di aion nella tradizione greca come tra l'altro ampiamente mostrò un nostro compianto collega il professor de ghani che forse qualcuno qui ricorderà in un libro appunto intitolato aion in cui dava ampio spazio al dialogo col mondo col mondo iranico e voi vedrete che nelle leggende dei magi voi trovate che i magi incontrano ciascuno una figura di gesù diversa il mago giovane entra nella capanna o nella casa o nella grotta dove si trova gesù e vede in gesù un bambino il mago uomo adulto vede un uomo adulto il terzo mago il vegliardo vede gesù come uomo anziano poi tutti escono si raccontano di nuovo che cosa hanno visto ritornano dentro e tutti vedono gesù come cosmocrata solo il vangelo armeno dell'infanzia fa entrare uscire i magi per quattro volte perché sviluppa il tema della grazia cioè è dio che permette a coloro che vanno in sua presenza e che cercano di farsi percepire con una cifra superiore a quella della loro potenza perché come dire qualsiasi essere umano sa di non poter abbracciare l'infinito l'universale e quindi ciascuno che vede in proporzione alla sua identità riceve la grazia per poter vedere un altro pezzetto fino a quando gesù non decide di manifestarsi e questo sarà il tema come dire spirituale forse più profondo che voi trovate in Marco Polo ad esempio stasera potete ritornare a guardare sia la versione francese che quella italiana perché quella francese è molto più ricca sui tre sulle sulle tre visioni ma addirittura abbiamo iconografie a cui io accenerò e poi c'è la figura di Ciro il grande perché Ciro il grande andiamo allora torniamo all'antico testamento Isaia 45 1 allora Yahweh dice al mio unto in verità poi troviamo nelle traduzioni non letterari all'unto Ciro la cui destra io ho preso per piegare le nazioni dinanzi a lui ed io scioglierò i l'altro i lombi dei re attenzione unto mascia e il messia ora questo termine come tradotto in greco utos legei kurios oteos to cristomu Ciro attenzione quindi così il signore Dio al mio unto Cristo al dativo ma sia Ciro che Gesù sono un cristos ovviamente di proporzione differente il termine che è usato nella letteratura giudaico cristiana è il medesimo cioè tutti e due sono due messia uno è il messia storico è il messia in cui la comunità ebraica vede il liberatore dalla cattività babilonese è colui che permette la ricostruzione del tempio di Gerusalemme Gesù invece è il signore del mondo e il cosmocrator eccetera eccetera però attenzione tutti e due hanno lo stesso termine ora era impossibile di nuovo che in un mondo dialogante in cui ciascuno cercava di mostrare all'altro che era adebitore della propria tradizione culturale perché attenzione qui noi stiamo guardando un aspetto bello della civiltà umana la volontà di dialogare e di trovare punti di contatto normalmente noi ci soffermiamo anche attraverso gli strumenti televisivi su tutte le occasioni per poter infilarci le dita negli occhi dal punto di vista sociale civile culturale eccetera se no non avremo arsenali grazie ai quali potremmo distruggerci tantissime volte quindi siamo un po' disabituati a ragionare sotto questa prospettiva in questa in questa chiave quindi che cosa avviene che diverse fonti cristiane insistono su un tema che è quello della traslazio imperi dal ciro unto del signore ma sovrano di un impero multietnico come quello a che meridi come quello persiano al sovrano universale al re del mondo quindi da cristo a cristo da unto a unto con un'aggiunta tecnica che l'unzione è un atto liturgico che viene compiuto in genere da un'equipe sacerdotale quindi il discorso sotteso è così come ciro è stato unto dal suo entourage guarda caso sono proprio dei magi che vengono a ungere il cristo signore universale voi direte come tanti miei colleghi a ma siamo di fronte a un anacronismo è vero perché noi troveremo diverse fonti greche e arabe che ci dicono che ciro il grande manda i magi da gesù ci sono quasi sei secoli di distanza ma che importa cioè questa non è non è una telecronaca sportiva dove c'è la sequenza degli eventi è una trasmissione di quasi se volete usare una terminologia hegeliana del weltgeist dello spirito della storia che passa da una civiltà all'altra e che passando dal re storico andrà a incarnarsi secoli dopo nel re del mondo sul piano universale quindi è un discorso spirituale è un discorso di longue durée direbbero le scuole la scuola degli annali francese che noi troviamo sviluppato in un testo greco che io per comodità definirò de justice in perside che è un'opera composita probabilmente del sesto del sesto secolo dopo cristo e che cosa ci dice quest'opera che in un tempio dedicato alla dea greca era fatto costruire la ciro il gran sacerdote quindi un sacerdote persiano avrebbe assistito a un evento eh incredibile perché eh era divenuta urania quindi celeste dopo essersi unita col dio del sole con megas eios col grande sole sarebbe stata allietata da uno straordinario concepimento che cosa accade il testo prosegue descrivendo le statue degli dei che incominciano a ballare e a un certo punto crolleranno insieme al tetto che si apre ma la dea era si trasforma in peghè cioè in fonte fonte di acqua viva da cui scaturisce un pesce lo vedremo a breve ma si dice che questa fonte o sorgente si chiama anche muria che probabilmente sta per maria e si aggiunge che avrebbe sposato un carpentiere cioè abbiamo la narrazione evangelica che è girata in una versione paganizzante ovviamente ma d'altronde è attribuita ai persiani non è e ovviamente questo essere fonte e generare un pesce ricordate che diventa poi eh l'acronimo per Gesù Cristo figlio di Dio nella nella tradizione è il principe della salvezza e la fine della distruzione quindi un bambino figlio di Elios ma è anche una divinità che è Trionimos cioè che ha tre nomi quindi l'allusione è alla Trinità allora che cosa succede che le statue sulle quali si ferma una stella rovinano per terra la stella presenta non solo uno splendore abbagliante ma un diadema un diadema regale diadema basilicos e tutti coloro che si occupano di storia antica immediatamente sanno che questa è una simbologia iranica per eccellenza diadema essendo uno degli elementi del del proprio eh delle dei vestiti del del sovrano e la voce celeste che proviene dalla stella ordina Ciro di inviare i suoi magi a Gerusalemme la stella rimane ferma fino a quando Ciro non provvede a realizzare questa eh questo ordine eh andiamo avanti i magi si recano a Betlemme seguendo la stella per adorare Gesù e Maria ovviamente incontra Erode Erode farà di tutto per impedire loro di andare da Gesù e quindi ci troviamo con una narrazione creata sicuramente da cristiani che cercano di operare in modo propagandistico con il mondo di frontiera con il mondo iranico voi non dovete eh ignorare il fatto che in età tardo antica eh cristiani eh bizantini e eh persiani si sono in guerra per tre secoli e più ma si scambiano continuamente ambascerie vivono in una condizione eh sostanzialmente premoderna ogni volta che un nuovo sovrano viene eh viene portato sul trono gli ambasciatori partono per i mutui accreditamenti esistono categorie giuridiche precise nel trattamento reciproco degli ambasciatori abbiamo un'epistolografia chiara nel modo di appellarsi per cui i sovrani si fanno la guerra ma si chiamano fratelli le regine si chiamano sorelle e abbiamo addirittura case in cui per paura di che uno dei propri figli soprattutto quello prescelto al trono venisse ucciso un sovrano di Persia o un sovrano bizantino chiedesse al suo nemico per favore adotta mio figlio per proteggerlo qualora qualcuno tra i miei volesse ucciderlo quindi un mondo molto più complesso di quello che noi eh come dire vogliamo eh semplicisticamente attribuire antico vuol dire antico non idiota eh come a volte si pensa no? Beh antico l'antichità ci ha insegnato che livelli di raffinatezza sul piano della diplomazia sul pensate che negli accordi tra persiani e bizantini fissono addirittura le regole quale calendario usiamo visto che seguiamo tradizioni matematico astronomiche differenti e feste religiose che non sono le stesse quindi si mettono d'accordo ad esempio per usare il calendario egizio quello che userà ancora Newton trecentosessantacinque gradi con l'anno vago che continua a girare ma che funziona perfettamente basta sapere quale pattern numerico devi utilizzare questo in modo da non dover litigare come io sono venuto con l'ambasceria per portare i doni presso la stazione di Nisibi dove dovevamo incontrarci e tu non c'eri ti dichiaro guerra no proprio per evitare queste cose per dire si mettono d'accordo anche sul sincronismo da utilizzare quindi attenzione un altro un altro mondo rispetto a quello che ci fa comodo pensare fatto sta che questa operetta un po' paradossale che voi incontrate si inserisce poi in un testo ben più ampio in cui noi troviamo invece un dibattito teologico religioso ambientato non presso gli Achemenidi ma presso i Sassanidi cioè ambientato in età tardoantica quindi abbiamo i sovrani Sassanidi che ospitano probabilmente il sovrano Cavad o Cosroe primo che ospitano un dibattito noi sappiamo che dibattiti di questo tipo esistevano tra pagani che sono gli zoroastriani cristiani ed ebrei quindi eh dentro questa cornice di dialogo e di polemica intra religiosa voi trovate inserito un centone che ci racconta del perché i magi sarebbero andati da Gesù perché guarda caso mandati da eh da Ciro andiamo avanti questa iconografia è ampiamente conservata nei manoscritti ecco questo è il manoscritto Tafu eh il manoscritto quattordici qui vedete le statue che ballano il sacerdote persiano che parla con Ciro e gli dice guarda sta succedendo un caos pazzesco corri subito eh le statue che cadono Ciro nel frattempo che ha chiamato i suoi i suoi sacerdoti e Ciro che ordina i magi di partire i magi in viaggio i magi che raggiungono eh Gerusalemme con Erove ecco qui sono i particolari vedete già eh qui i magi con la scusate la stella eccola qui questa iconografia un po' particolare ma la stella di guida e qui i magi già a Gerusalemme dopodiché eh il manoscritto sviluppa il tema anche quello del trimorfismo che vedremo più precisamente qui ecco vedete avete un mago quello di quello più anziano che sta con Gesù bambino avete il mago di mezza età con un Gesù giovane e avete il mago di eh scusate eh il mago più giovane con un Gesù anziano che tiene in braccio quindi siamo in una fase in cui ciascuno ha avuto già la grazia di vedere sia il Gesù simile a se stesso sia a un grado se volete esoterico spirituale superiore questo a indicare che Dio che Gesù è il cosmocrator è è Aionne più di Aionne un signore del tempo e trascende il tempo degli umani ora questa narrazione è ripresa anche in arabo ma Sudì in un'opera celeberrima le praterie d'oro ci dice che quando il Messia venne al mondo il re Koresh cioè Ciro gli mandò tre messaggeri il primo portava un sacchetto di incenso il secondo un sacchetto di mirra il terzo un sacchetto pieno d'oro partirono guidati da una stella che il re aveva loro descritto e giunsero in Siria presso il Messia e Maria sua madre questo aneddoto dei tre re messaggeri è riportato dai cristiani con dettagli esagerati si trova anche nei Vangeli continua il testo così si dice che la stella si apparsa a Koresh al momento della nascita di Cristo che camminava quando gli inviati del re erano in viaggio che si è fermato quando si sono fermati eccetera eccetera ulteriori dettagli si troveranno nei nostri anali storici dove abbiamo riportato le versioni dei Gabri i Gabri sono gli zoroastriani e dei cristiani su questa leggetta Ivi l'autore musulmano quindi parla di una tradizione di due tradizioni religiose che non sono la sua Ivi si vedrà che Maria data una pagnotta tonda ai messaggeri del re questi dopo varie peripezie la nascosero sotto un sasso questo pane è scomparso nelle profondità della terra nella provincia del Fars poi fu scavato un pozzo e in questo luogo si videro spuntare due covoni di fuoco che brillarono sulla superficie in poche parole tutto su questa leggetta si trova nei nostri anali che cosa succede qui c'è la no la la storia degli antidora dei Maria Maria fa dei regali ai magi in alcune tradizioni da loro una pagnotta la pagno o un sasso il sasso viene buttato e dagli scaturisce il fuoco e allora i commentatori dicono vedete il culto del fuoco degli zoroastriani deriva da Gesù e da sua madre quindi è un modo per dire tornate da noi perché la vostra religione non è che una costola della nostra cioè è un messaggio che tende a inglobare non ad allontanare oppure c'è la narrazione della benda la madonna avrebbe dato ai magi una fascia con cui il bambino era stato avvolto e questa fascia diventa straordinariamente curativa non prende fuoco e viene custodita come una reliquia attenzione l'idea del messia gioca un ruolo politico perché perché in età tardoantica la chiesa cristiana di persia che in una visione eresiologica è una chiesa scismatica sono duofisiti cioè nestoriani ma è una chiesa che gioca un ruolo importantissimo e che porta il cristianesimo fino in Cina e anche oltre allora eh il cattolicos cioè la sorta di papa di questa chiesa nel cinquecentoquarantaquattro tiene una sinodo e durante la sinodo il sovrano cioè Cosroe primo presenzia esattamente come faceva Giustiniano perché i cristiani sono una minoranza politicamente importante del suo impero quindi va si siede sul trono e assiste al dialogo teologico tra i suoi fedeli cristiani ma Marabà chiama il suo sovrano nuovo Ciro quindi attenzione vuol dire che i cristiani in Persia usano politicamente il riferimento a Ciro come messia nei confronti del loro sovrano qual è l'obiettivo fa parte di una strategia politico religiosa convertire il sovrano o uno dei membri della sua famiglia per ottenere il seguito il la conversione dei sovrani persiani e con loro di tutta la corte al cristianesimo era quello che era già accaduto in Armeglia quindi non a caso la chiesa di Persia pur vivendo eh momenti difficili a volte persecuzioni sceglie di avere la sua sede praticamente di fronte alla reggia dei sovrani persiani perché perché non devono scappare il loro obiettivo è evangelizzare e convertire gli zoroastriani diversa invece sarà la politica delle comunità ebraiche che invece tendono a marcare la distanza si apre un dibattito nel Talmud ma questo Ciro era proprio il messia o no oppure si inizia a dire sì lo era ma era figlio di Esther cioè non era iranico ma era ebreo legittima perché voi sapete che il vincolo del sangue passa per linea femminile quindi demarcando è messia ma perché era di fatto uno di noi quindi mentre il mondo cristiano gioca in chiave politica per inglobare gli zoroastriani e convertirli il mondo ebraico preferisce restare nella sua delimitazione e marcare i punti di differenza in una strategia diciamo politico religiosa eh differente eh per chiudere oltre al buon duemila e ventitré eh volevo leggervi proprio per mostrarvi eh cosa è possibile trovare nel dialogo religioso un passo preso dal vangelo arabo dell'infanzia da un codice che sta a pochi chilometri da qui cioè a Firenze nella biblioteca laurenziana e la prima pagina di questo vangelo che è tradotto in arabo dal siriaco dice al tempo del profeta Mosè che sia lodato c'era un uomo di nome Zoroastro il quale inventò le scienze dei magi un giorno mentre stava seduto presso una sorgente insegnando ai suoi seguaci la scienza dei magi disse loro in mezzo al suo discorso in verità la vergine concepirà senza concorso di uomo e partorirà senza perdere il sigillo della verginità i popoli gioiranno con il suo annuncio nelle sette parti del mondo gli ebrei lo crocifigeranno nella città santa costruita da Melchisedec risorgerà dai morti e risalirà al cielo ed ecco il segno della sua nascita vedrete in oriente una stella più brillante della luce del sole delle stelle che sono nel cielo poiché essa non è una stella ma un angelo di Dio quando l'avrete vista affrettatevi a mettervi in cammino verso Betlemme per adorare il re che sarà nato per offrirgli dei doni la stella sarà la vostra guida sino a lui questo detto era una sorta di di profezia e secondo il metropolita Gesù Ben Nun che noi conosciamo essere il metropolita di Merve Mari in Turkmenistan nel nono secolo tale Zoroastro sarebbe stato l'astrologo Balaam e la profezia si avverò alla fine del tempo quindi qui vedete proprio l'operazione conclusiva un discorso secondo il quale Zoroastro Zoroastro diventa uno dei profeti che annuncia l'arrivo di Gesù giocando sul fatto che gli italiani attendono i figli postumi di Zaratustra l'ultimo dei quali anch'esso nato da una vergine verrà a portare la risurrezione finale questo ci mostra che in un'epoca eh come quella attuale dove purtroppo eh il mondo iranico eh l'Iran attuale si mostra come patria certamente non di dialogo e di inciviltà eh agitando le corde delle impiccagioni anche per eh per motivi eh futili ma ovviamente strumentali non è solo quello è un mondo che ha un passato ricchissimo è un mondo che è capace ed è stato capace di dialogo ed è un mondo rispetto al quale il nostro compito è sempre quello di trovare le linee con chi vuole ragionare ovviamente eh evitando compromissioni laddove è impossibile condividere scenari con chi ha perso purtroppo il lume della ragione che i suoi antenati hanno mostrato di possedere anche grazie ho il piacere di presentare velocissimamente Daniele Tonini che oltre a essere un plurilaureato dell'alma mater eh mio allievo è un professionista nel mondo dell'arte e della musica grande esecutore eh bacchiano di eh flauto e di vari non solo di flauto traverso ma anche di svariate diavolerie eh eh di epoca prebarocca e barocca ma che è un eh affermato basso non pur nonostante l'altezza eh che questa sera eh ci regalerà un centone musicale che si colloca nella eh diciamo proprio nella cornice dei macchi. A te una presentazione. Buonasera. Buonasera. Allora veramente sarà un breve un breve canto un breve canto eh usciamo dagli ambiti temporali finora affrontati siamo a metà ottocento. L'autore è Peter Cornelius è stato un compositore che ha vissuto tra il 1824 e il 74 quindi ha vissuto solo 50 anni e ehm compose eh a metà del proprio a metà del secolo questa raccolta di canti natalizi al quale eh dentro la quale inserì questo canto dedicato ai magi con alcuni riferimenti proprio puntuali al al testo al testo di eh Matteo. Eh Peter Cornelius è stato un eh compositore che ha cercato di eh fare proprio della musica tedesca della musica nazionale sia in campo profano sia in campo eh religioso. È stato eh amico di Mendelssohn ha frequentato ambienti culturali come quelli dei fratelli Grimm eh le sue la sua opera è rimasto famoso per un'opera che è ancora in repertorio nei teatri tedeschi che è il barbiere di 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 Bagdad ma ehm diciamo appunto in Italia non è eh molto eh eseguito ed è anche l'autore eh dei testi delle sue composizioni e anche diciamo a poeta eh abbastanza affermato ai suoi tempi. Di questa eh di questo canto appunto che si intitola I re di Könighe eh adesso vi leggerò la traduzione. Tre re vengono dall'Oriente. Una stella li guida verso la riva del Giordano. In Giudea domandano a tutti dov'è il re appena nato. Vogliono offrire in dono al bambino oro, incenso e mirra. E Chiara splende la luce della stella. Alla stalla arrivano i re. Guardano il bambinello con tenerezza e pregando si inchinano. Portano oro, incenso e mirra in dono al dolcissimo bambino. E qui il poeta si rivolge al bambino al bambino dei suoi tempi cioè cioè fa una siamo proprio in un ambito natalizio appunto come i re eh magi che portano i doni ai bambini e dice o creatura umana sia fedele il tuo passo. I re camminano vai con loro. La stella dell'amore, la stella della grazia rischiari la tua meta così che tu cerchi il signore e se non hai oro, incenso e mirra dona il tuo cuore al dolcissimo bambino. Ah l'ultima cosa eh questo è naturalmente è un è un è un canto è un lead natalizio che sarebbe da eseguire con il pianoforte. Il non vorrei essere troppo tecnico il eh compositore aveva concepito proprio un corale cioè una musica da eseguire a quattro parti e il canto era inteso come una quinta parte che eh sorvolava sulle parti che un coro ipotetico perché la parte è del eh affidata al pianoforte avrebbe dovuto eseguire. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso è aperta la discussione. Se qualcuno ha qualche curiosità da soddisfare, il professor Panaini è a disposizione. Grazie a tutti. A un certo punto una figura che è mitica più che storica di un sacerdote cristiano nell'estremo oriente che si accinge a riconquistare il mondo occidentale e quindi i magi vengono considerati come dei suoi araldi, dei suoi messaggeri. E' uno dei numerosi cicli che si aprono intorno al ruolo dei magi. Ma non ha nulla di significativo sul piano della mistica dei magi o del loro ciclo leggendario. Insomma, vengono nelle narrazioni sul prete Gianni si mettono in relazione i magi dall'Oriente con questa figura. Però il ciclo del prete Gianni è ben più articolato e più complesso e segue poi filoni differenti un po' legati appunto alle esperienze dei grandi viaggiatori occidentali in Cina e alle notizie che portano anche più o meno minacciose. Insomma, però rispetto al ciclo vero e proprio dei magi è un aspetto distante insomma. Qualche altra domanda? Prego. Professoressa Monari, un attimo il microfono. Il significato della stella. È un'altra conferenza, però come dire, sarà un anno fra un anno, ma volentieri. No, no, lo so che abbiamo gli astronomi. Allora, per toccare proprio un argomento drammaticamente complesso, la stella nell'esegesi dei padri della Chiesa, sin dalle fonti più antiche, non è una stella. È il simbolo della fede. Se Agostino è violentissimo dicendo non i matematici, non gli astronomi, non i numeri hanno determinato un fenomeno così grande, la stella sostanzialmente è la stella della fede. Più, in modo più narrativo, viene associata a un angelo che guida i magi. Ovviamente, a un certo punto, intorno al quinto, sesto secolo, inizia a comparire l'idea di una cometa, la cometa poi viene rappresentata da Giotto, anche se, attenzione, le fonti, a partire da Matteo, parla di astron. È una stella, non si parla di pianeti, non si parla di comete, non si parla di congiunzioni astronomico-astrologiche e sostanzialmente, diciamo, c'è stata una corsa, mi dispiace doverlo dire, purtroppo anche degli scienziati. Nel senso che, ricordo ancora, uno dei più importanti convegni che si sono tenuti negli ultimi anni a Kroeningen, tra astronomi e storici delle religioni, in cui un celeberrimo astronomo britannico, direttore di Greenwich, disse che, siccome lui era l'astronomo di corte, ed era cristiano, ed era anche astronomo, lui doveva spiegare il mistero della stella. Io ho detto, scusami, se in duemila anni il mondo cattolico e anche il mondo protestante si è guardato con estrema prudenza dal dare un'interpretazione a un fenomeno di cui non sappiamo nulla e che volutamente è lasciato, come dire, proprio come il segno che colgono coloro che cercano. E ovviamente, insomma, ho detto, a me sembra che sia un po' un inseguire i fantasmi, soprattutto quando, ad esempio, alcuni colleghi cercano di dimostrare che si sarebbe trattato di una congiunzione di Giove e Saturno. A parte il fatto che in quell'epoca nessuna congiunzione è così stretta da dare l'illusione ottica di una luminosità straordinaria prodotta dal raddoppio della luminosità di due stelle così vicine l'una all'altra. Cioè, erano le due stelle, i due pianeti sono stati separati, c'era quasi un grado tra l'uno e l'altro, quindi, francamente, è un arrampicarsi sugli specchi. Ma che gli astronomi persiani avrebbero calcolato l'oroscopo di Gesù prima della sua nascita, per sapere quando e dove andare, io ho detto, scusate, a partire dall'Università di Kroeningen e poi via via, aprite delle cattedre di astrologia. Perché se erano così bravi con quello strumento ermeneutico, francamente, perché non farlo ancora oggi? Cioè, è un cadere nello scientismo, nel senso che non c'è bisogno di dimostrare scientificamente le verità di fede, perché chi si mette in quel percorso, quando viene smentito, che cosa devi fare? Devi abbiurare. Ad esempio, quando i filologi e gli storici del Nuovo Testamento mostrano che non c'è stato, ai tempi di Gesù, della sua nascita, intorno tra il 7 e il 4 avanti Cristo, alcun censimento, a partire da Monsen, che lo scrive chiaramente, il primo censimento in Palestina è intorno al 7 dopo Cristo. Quindi si è sbagliato l'Evangelista di 14 anni. Allora che cosa dovremmo dire? Forzare le fonti, inventare, oppure dire che l'Evangelista ha scritto astro, ma voleva dire pianeta. E beh, a quel punto puoi dire qualsiasi cosa. E come fanno i colleghi di medicina cinesi che forzano i dati dei risultati medici per dimostrare che esattamente sono nell'obiettivo che si erano fissati. Poi si sa che non è esattamente così. Cioè, non è più scienza. Il problema, ripeto, scatta di più tra gli scienziati. E mi dispiace che proprio l'anno scorso, in prossimità, l'anno scorso due anni fa, che c'è stata una congiunzione stretta di Giove e Saturno, ad esempio tutti i siti degli osservatori astronomici italiani e anche della NASA hanno incominciato a parlare di grande congiunzione. Ora, la grande congiunzione, innanzitutto, è un termine astrologico. Indica un fenomeno per cui Giove e Saturno, che normalmente si incontrano, se uno usa i moti medi, per dodici volte nella stessa triplicità astrologica, quindi in novecentosessanta o novecentottant'anni. In realtà, secondo i moti reali, si scende di quasi due secoli, cioè in ottocento anni quella triplice congiunzione. Ecco, fanno un salto perché girano attraverso tutte e quattro le triplicità astrologiche. Ma questo è un ragionamento di tipo astrologico. Perché i miei colleghi astronomi devono parlare di grande congiunzione? Non è una grande congiunzione, è una congiunzione stretta di Giove e di Saturno. Sono due cose completamente diverse. Però dire grande congiunzione, come dire, è più eccitante, salvo che stai giocando con l'astrologia in un contesto che è strettamente astronomico. E quindi, insomma, a breve esce un mio articolo proprio su queste cose, dove mi permette un po' di tirare le orecchie a coloro che forse dovrebbero dialogare di più con i colleghi di storia, no? In modo tale che ci chiariamo nella terminologia. Perché se si fa astrologia, attenzione, se si usa l'astrologia per dare delle spiegazioni storiche, devi conoscere le tecniche dell'astrologia. Ovviamente noi che studiamo le religioni antiche, per dire il culto di Mitra, non è che la sera poi ci riuniamo e celebriamo i tauroboli ammazzando dei tori negli scantinati, no? Semplicemente siamo degli storici delle religioni antiche. Per cui se io sto usando l'astrologia come dottrina ampiamente attestata nelle fonti, ovviamente il mio è un approccio laico, ateo se volete, no? Nel senso che io ho le fonti e cerco di dominare l'ermeneutica, il che vuol dire il modello cosmologico, il modello matematico, il modello teologico-religioso che sta dietro a quel ragionamento, per capire a quali conseguenze logiche arrivano attraverso un tema astrologico. Però devo studiare quella materia, non è che me la posso giocare come voglio io. Ad esempio, tutti gli esperti di storia dell'astrologia sanno che le congiunzioni Giove-Saturno non giocano alcun ruolo nella divinizione astrologica sino al III-IV secolo d.C. E soprattutto non erano praticate dai greci. Neanche in Babilonia, in Mesopotamia, delle congiunzioni Giove-Saturno non gliene portava niente. Cioè voi prendete centinaia e centinaia di tavolette astronomiche, astrologiche, le segnano le congiunzioni, ma non è che impazziscono, non deducono nulla di particolare. L'ossessione per le congiunzioni Giove-Saturno è un'innovazione di tipo indiano e iranico che nasce intorno al III-IV secolo proprio nella Persia sassanica. Ma è un'altra cosa, ma certamente non posso usare quella dottrina per giustificare l'ermeneutica di astrologi del I secolo a.C. che avrebbero usato una dottrina astrologica di tre secoli dopo. Scusatemi, qui bisogna decidere con che materia noi lavoriamo. Però questo per dire che le scienze dell'antichità e come l'astrologia, eccetera, sono importanti perché ti permettono di dare dei discrimina storici e anche matematici, perché ovviamente usano criteri, usano strumenti che tu puoi comparare e che puoi sottoporre ad un'analisi che è comunque razionale. Non è che ci mettiamo a fare le macumbe intorno ai testi. Ecco, questo per dire che essere uno studioso del mondo antico vuol dire cercare di raccogliere tutti gli strumenti che abbiamo per far parlare le fonti. E quindi dobbiamo capire come ragionavano loro, non come vorremmo che avessero ragionato. Avete visto come una domanda apparentemente semplice come quella della stella... Ecco, c'è la voce degli astronomi adesso. No, adesso ci sono altre domande, ci sono. Una domanda apparentemente semplice come quella della stella ha stuzzicato l'erudizione del professor Panaino. Panaino, ne abbiamo già discusso una volta. Sì. Allora, mi sento chiamato in causa. Sì, ma certo. Non la difesa della categoria, perché devo dire che anch'io trovo ributtanti i tentativi di finire sui giornali, stiamo inventando cose che non mangiare il sensazionalismo. Quindi, tuttavia, lasciami dire, se io ascolto da, diciamo, astronomo, astrofisico moderno, le descrizioni che tu ci hai riportato, io non riesco a togliermi dalla testa, che attraverso un percorso di discesa da delle persone molto esperte verso delle persone che scrivevano, ma che non avevano le stesse capacità e la stessa proprietà di descrizione, quello che mi pare più naturale descriva il fatto di partenza è il moto retrogrado di un pianeta. Quello che ha tutte le caratteristiche... Perché non scrive Planetess. Planetess. No, 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 perché lo dico io, perché non lo so che sia. No, è il moto retrogrado di un pianeta, ancora Marte in particolare, che poi dopo venga chiamata stella, invece che pianeta, questo può essere oggetto di discussione, come tu hai sottolineato, nel senso che io mi chiedo se chi ha scritto quei testi, già che a me capita di parlare con persone che vi descrivono fatti che pur essendo colpi, giuristi così, fanno tranquillamente, tanto per far un esempio cattivo, che non è il gesto agli astronomi. Ecco, in cui però praticamente la capacità di distinguere questi fenomeni l'uno dall'altro è minima, quindi la descrizione diventa generica, ma che ci sia in qualche modo una traccia di indicare come segno, tra virgolette, divino, un fenomeno che era anomalo in qualche modo, cioè il moto di un pianeta brillante, in senso contrario, che poi si ferma e torna indietro e riparte nel suo... Sì, sì, un fenomeno di retrogradazione. Sì, di moto retrogrado, che spiegato con gli epicicli in maniera complicatissima, la Ptolomeo poi trova una spiegazione normale nel modello copernicano, ecco, a me pare che questa cosa qui dovrebbe essere la strada più ragionevole. Poi possiamo discutere... Ma ragionevole, cioè possono esserci tanti fenomeni dietro. Il problema è che nella storia del cristianesimo decine di fonti cristiane non si preoccupano di questo problema. Non gliene importa a nessuno. Cioè il vero contenuto è che la stella è la luce di Dio che chiama, guarda caso, i persiani, perché questi passavano le notti perché attendevano il figlio di Zoroastro. Quella è l'idea che c'è. Poi, tu puoi dire... Voi possiamo immaginare mille cose. Ma io non sto negando il fatto che ci sia un significato religioso. Sì, certo. Ma è così. Quello che io dico è che là, lo spunto, in qualche modo, del segno nasce da un fenomeno che turba la regolarità dei cieli, che è questo motto che trova... E mi sembra che sia la lettura, come dico, senza andare a sentire cose... Sì, è vero, però poi non arriviamo a nulla, nel senso che non conosciamo la data, non conosciamo il punto di osservazione, non sappiamo se si riferisce al periodo della nascita o al periodo precedente alla nascita. Non sappiamo qual è la direzione presa. Tra l'altro, non sappiamo neanche... Attenzione, non vorrei fare l'eretico, ma le Dictionnaire des Theologies Cattoliques, Padre Leclerc, quindi, come dire, non sono io che ho la coda notoriamente diabolica che si attorciglia dietro di me, ma le più grandi autorità cattoliche, non solo, con molta prudenza dicono, dietro alla storia dei magi ci può essere qualsiasi cosa e noi non osiamo dire nulla dal punto di vista storico, perché attenzione... No, 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 ma io non sto dicendo facendo un discorso storico, ciò che io sto dicendo è che se io dovessi da quelle cose descrivere come è nata l'idea di questo segno, mi viene in mente di leggerlo così. Ma l'invito che faccio io è mettete le mani avanti. Ma non c'è nulla di storico, eh? Perché aggiungo... Gentili colleghi, no. Abbiamo capito le rispettive posizioni. L'ultima cosa, c'è un altro aspetto, ad esempio, questa è una storia vera, ora è possibile che Erode, Erode che è il più grande farabutto della regione, Erode è un criminale, ha ucciso la moglie, ha ucciso i figli per ragioni di potere, è riuscito a sopravvivere con Augusto tra Cesare Ottaviano, non è ebreo, è idumeo, cioè viene da una tribù minoritaria guardata come impura, ed è il re di Israele, ora che un farabutto del genere, abilissimo, intelligentissimo, sul piano politico, non mette degli spioni di polizia dietro questi magi che vanno da Gesù? Cioè, uno dice, attenzione, il problema è che se noi ci mettiamo a usare come storia, come fonte storica piena quella narrazione, non ne usciamo più. Ecco questo. Però no, scusate, adesso non può essere un dialogo a due, non può essere. No, no, fatti, fatti. Chiudiamo. Non solo ringraziare, perché tanto abbiamo capito le posizioni. Grazie. Prechiudiamo. Posso usare un altro mezzo minuto per dire una cosa, poi ringrazio. Mezzo minuto è troppo. 30, 20 secondi. Ringraziare il paneino, perché Gaspari, Melchiorre, Baldassarre, per me Baldassarre era, per esempio, quando ero bambino, il nero. Adesso ho capito che invece è Daniele e quindi ho capito che c'era una qualche cosa. Scusate, ma se c'è qualcun altro che vuole fare la domanda. Prego. Siete stati bloccati da questa discussione. La stella, ma lo stila fuori di mezzo alla stella. La stella, no, ma... Io ho capito che le posizioni sono chiare, cioè la stella può essere un fatto solamente simbolico, come sostieni tu, non c'è nessuna dimostrazione, può essere un fatto astronomico realmente avvenuto, però la risposta non la possiamo dare. Non eravamo lì e non ci sono. Nessun'altra domanda? Bene, allora io vi ringrazio, ringrazio tutti voi per la partecipazione, ringrazio nuovamente il relatore, ringrazio chi ci ha letato con il canto e vi invito tutti nella sala davanti alla biblioteca per questo brindisi augurale, sperando che ci porti pazza e serenità. Grazie. Grazie. Grazie.